Atidei nel suo intervento ha parlato di collaborazione tra maggioranza e opposizione, però c'è stata subito polemica riguardo l'aspetto finanziario del Comune, perché non tornano i conti? Perché probabilmente sono ignoranti o non li sanno fare, perché quando tu fai un libro dei sogni e dici che farai sette facoltà, poi non fai conti con la realtà economica che noi abbiamo ereditato, ripeto, noi abbiamo ereditato da Giunta Moscherini 32 milioni di debiti. L'errore che questa maggioranza già fa è quello di accumulare tutti, noi nell'anno e mezzo che abbiamo governato abbiamo esclusivamente tentato di risanare i conti e ci siamo riusciti, fra l'altro facendo questa precisazione che nel nostro anno e mezzo noi, come sembra chissà quanti anni abbiamo governato, abbiamo esclusivamente risanato, progettato e fatto delle opere che oggi si troverà in questa amministrazione. Allora noi abbiamo tentato di dire che noi vogliamo collaborare, evidentemente da parte della maggioranza c'è stata, mi pare di capire, almeno una chiusura e allora se chiusura è lo vedremo nei prossimi consigli comunali.